Buonasera Milano, ragazzi il rigore per il Milan, quello su Ibrahimovic, era netto, finiamola di dire sciocchezze e anche tutti gli altri 12 rigori che hanno dato al Milan erano tutti netti, anzi secondo me ce n'erano altri 5 o 6 che non hanno dato poi mi parlate del rigore di Sottil, quel presunto calcio di rigore per il Cagliari ma lì è innanzitutto lui che tira la maglietta al difendente, anzi secondo me andava anche monito per simulazione visto che ha protestato tanto, hanno monito Romagnoli ingiustamente per fargli saltare la partita con l'Atalanta cioè voglio dire secondo me è allucinante, l'arbitraggio è stato allucinante Salem Akers era appena entrato giallo, doppio giallo, anche lui cacciato fuori subito per fargli saltare la partita con l'Atalanta e poi mi parlate di arbitri, ma questo com'è che ha arbitrato? ma vi rendete conto quello che ha fatto? uno dei migliori giocatori del campionato italiano squalificato per la partita con l'Atalanta anzi due, due tra i migliori giocatori del campionato italiano l'Inter ha avuto 4 calci di rigore durante tutta la stagione, il Milan 12 pazienza, significa che l'Inter entra meno in aria del Milan, questo è il motivo anzi i quattro rigori che sono stati dati all'Inter secondo me la metà neanche c'erano tra l'altro quindi cosa vi lamentate a fare? cosa vi lamentate a fare? anzi, anzi è il Milan che si deve lamentare ma ragazzi, ma veramente fate? secondo me, obiettivamente, il Milan dovrebbe essere in testa con almeno una decina di punti di vantaggio altro che tre punti ha giocato senza sette titolari con dei bambini in panchina ce n'era uno che è in classe di mio nipote che va all'elementare i bambini in panchina e poi dopo vi parlate di favori arbitrali appena entrati i giocatori buttati fuori subito per favorire l'Atalanta nella partita Milan-Atalanta o comunque per sfavorire il Milan più che per favorire l'Atalanta perché? perché non vi va bene che il Milan vada in fuga come meriterebbe ma voi che partite guardate? io voglio sapere quelli che dicono che al Cagliari hanno fregato la partita o comunque che il rigore per il Cagliari era netto ma che partita avete guardato? quella è una delle poche cose che ha azzeccato Abisso che è stato un disastro Abisso è un arbitro disastroso aprite gli occhi siate onesti fatemi sapere qui sotto che voto dareste a questo arbitro Abisso un saluto alla prossima